Buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram, un viaggio chiamato Firenze, così abbiamo titolato stasera, ma è un titolo non nostro, preso in prestito per una serata importante, quella del rendiconto del quarto anno di mandato del sindaco Nardella, il sindaco di Firenze, che questa sera è il nostro ospite. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, come dicevamo, una serata importante per raccontare cosa si è fatto in questi quattro anni, ma anche, immagino, per dettare le linee di guida del prossimo anno, che in un anno si riescono a fare tante cose a Firenze. Certamente. Anzitutto credo che sia un dovere restituire ai cittadini il risultato del lavoro fatto, visto che abbiamo alle spalle quattro anni molto intensi, soprattutto l'ultimo anno, e condividere gli obiettivi futuri. Ci manca un anno alla fine del mandato e come i cittadini di Firenze, anche tutti coloro che vengono abitualmente nel capoluogo sanno, abbiamo tanti cantieri che sono in via di conclusione. Il più importante è certamente il cantiere delle linee tramviarie, penso alla linea 3 per la quale si conferma l'inaugurazione del 30 giugno, un obiettivo straordinario e credo aver realizzato in quattro anni un'opera così impegnativa nel piano della città è qualcosa che nessuno di noi quattro anni fa avrebbe pensato. E poi molti altri progetti. Sì, poi ne parleremo. Ne parleremo anche perché ne parlerete il 21 maggio al Teatro Puccini, all'ora 21, questo, eccolo qua, anche la locandina, l'invito per chi volesse partecipare. Certamente. Però, appunto, come dicevamo, sono quattro anni, sono tanti, di mandato, con quattro anni si è fatto tanto, a partire da quello che era un suo slogan in campagna elettorale del 2014. Allora noi ascoltiamo il servizio, la scala introduttiva di Chiara Elce e poi ne parliamo in studio. Sentiamo. Firenze più di prima recitava uno slogan della campagna elettorale di Dario Nardella ormai quattro anni fa. Per una città che vive sulla cresta del Londra, si è no 700 anni, il titolo era ambizioso, quasi ardito. Eppure, a quasi un anno dalla fine del mandato di governo, la città tira un bilancio della sua amministrazione e si ritrova in effetti diversa, mutata. e pronta all'ultimo passo. Più di prima, in effetti, più smart, direbbero gli inglesi, più ganza, detto la nostrana. A mutare il volto della città sono essenzialmente due cose, le infrastrutture e gli spazi riutilizzati. Sul primo fronte, al di là di aeroporto e TAV, troneggiano le tramvie, linee 2 e 3, che tra l'estate e l'autunno dovrebbero entrare in esercizio e per cui i fiorentini hanno atteso fino ad oggi, con una pazienza tutt'altro che scontata. Difficile non percepire il radicale cambiamento che nuove linee porteranno in città, sia sul fronte traffico e inquinamento, uno dei nodi critici, sia sull'accessibilità e modernità del vivere quotidiano. La mobilità, allora, potrebbe diventare il fiore all'occhiello di una città che già da qualche anno vive una sorta di rinascimento culturale e una vitalità che non si vedevano da tempo. Un po' meno decadente, un po' più moderna, con un'attrattività che è la sua croce e la sua delizia. Il turismo verono da sciogliere nei prossimi anni, anche per non perdere la propria identità. Ma dicevamo, Firenze, più di prima, anche in quanto a contenitori dismessi e poi riutilizzati, l'altro grande capitolo di una città che ha come faro urbanistico quello dei volumi zero. In quest'ottica, la Manifattura Tabacchi, lo studentato in Viale Belfiore, San Firenze, Costa San Giorgio, rappresentano opportunità decisive, mentre rimangono alcune ferite aperte, come Sant'Orsola. In quanto a spazi da riempire, invece, ci sarà un giorno anche un nuovo capitolo franchi, staremo a vedere. Certo è che Firenze, capoluogo del mondo, ispiratrice del bello e del vivibile, ma anche dei valori fondanti della cultura europea, rappresenta in qualche modo il paradigma della sfida italiana, quella di scrollarsi di dosso, un'immagine splendida, ma statica, immutabile, a tratti decadente. Firenze, più di prima, allora, significa anche più viva? Parola ai fiorentini. Allora, parola ai fiorentini, parola al primo fiorentino, diciamo così, il primo sindaco. Firenze, più di prima, vuol dire anche più viva, è più viva oggi di quattro anni fa. Io credo proprio di sì. In certi aspetti è anche molto viva, tanto che abbiamo il problema di mantenere sempre un equilibrio. Però mi è piaciuto molto il riferimento all'idea di abbandonare una città statica, decadente. Firenze è una città economicamente, turisticamente, culturalmente molto vivace. Non lo dice il sindaco, ma lo dicono le statistiche, ce lo riconoscono a livello internazionale. Noi dobbiamo riuscire a mantenere questo ritmo, se possibile, anche aumentarlo. E il nodo centrale è ovviamente quello delle infrastrutture, sul quale ci stiamo battendo pancia a terra con tutte le energie. Tra l'altro, su questo, la domanda è d'obbligo. In un clima politico, poi ne parleremo anche del clima nazionale, che sta cambiando la preoccupazione, perché visto Firenze ha avuto anche un occhio di riguardo, diciamolo così, in senso generale, negli anni passati da parte del governo, qualcosa potrebbe cambiare in questo senso per gli investimenti che dovrebbero arrivare in città per le infrastrutture? Guardi, tutto quello che Firenze ha avuto, ed è stato anche molto, grazie anche a governi che ci hanno sostenuto, penso al governo Renzi e al governo Gentiloni, se l'è meritato. Firenze si è guadagnata questa grande collaborazione da parte dello Stato. Lo abbiamo dimostrato proprio con le tramvie. Siamo riusciti a realizzare le due linee tramviarie sulla base dei tempi dettati, sia dalla Commissione Europea che dal governo. Tant'è che la Commissione Europea, due giorni fa, è venuta a Firenze a dire, bene, avete fatto un buon lavoro, non avete buttato via i soldi che vi abbiamo dato e quindi vi daremo altri 40 milioni di euro per la linea 4 che va verso Campi Bisenzio. Quindi credo che noi dobbiamo difendere tutto ciò che abbiamo ottenuto e qualunque governo verrà, come ho già detto, dovrà, credo, onorare gli impegni già firmati, le norme già approvate. Altrimenti non solo io, ma io credo tutta la città unita farà fronte comune contro chiunque vorrà cancellare impegni già presi a favore dello sviluppo di questo territorio. Senta, questo vale anche per il tema dell'aeroporto perché lì al di là di quelle che poi saranno le linee guida del governo, c'è anche un fronte interno diciamo sia al Partito Democratico sia diciamo al nucleo dei sindaci dell'area fiorentina che è contrario. Di solito si vedono nascere i comitati contro qualcosa, in questo caso è nato pochi giorni fa un comitato per il sì, ce n'era bisogno? Forse sì, non è un caso che sia nato un comitato molto largo, non un comitato fatto da pochi notabili aristocratici, ma un comitato costituito da cittadini comuni, da artigiani, commercianti, perché è il segno di una comunità forte, coesa, che si ribella alla solita logica del no, alla solita logica dei veti. Sono decenni che noi parliamo dello sviluppo di Firenze della Toscana, sono decenni che aspettiamo la nuova pista dell'aeroporto, aspettiamo i sistemi tramviari, ora è venuto il momento di decidere se vogliamo essere una città da Champions League o rimanere una città come tante altre da Serie A. Io sono molto ottimista perché vedo che nella nostra città c'è un movimento che è determinato a favore della realizzazione della pista dell'aeroporto e quella è una delle opere su cui il Governo ha fatto delle cose concrete, come lo stanziamento delle risorse economiche necessarie a realizzarlo, come la valutazione di impatto ambientale, perché lo Stato ha detto ok, la pista si può fare, ci sono delle prescrizioni da rispettare per la sostenibilità ambientale, ma quest'opera ha avuto il via libera e ora davvero non possiamo permettere che nessuno la possa bloccare in modo così illegittimo, infondato e negativo non solo per Firenze, ma per tutta la Toscana. Senta, è logico però che in un quadro politico che cambia anche a livello nazionale i sindaci, lei lo sa bene, si trovano poi a avere delle scadenze elettorali, ma al di là di quello un sentimento della popolazione che puntano in un'altra direzione, magari si sentono le spalle meno coperte, non so come dirlo in questo senso politicamente, forse anche per quello c'è anche questa componente nelle scelte fatte. Io le posso dire che Firenze è abituata a combattere contro i giganti e anzi ho sentito tanti cittadini incoraggiarmi ad andare avanti, se mai dovessimo avere un governo che volesse bloccare di nuovo l'aeroporto, che volesse bloccare le tramvie o l'alta velocità e le altre opere, io sono certo di avere, che avrei più che mai la città compatta e unita per impedire che ciò avvenga. Ripeto, ci sono atti firmati, impegni sottoscritti, provvedimenti normativi approvati, non si può tirare il freno a mano o addirittura tornare indietro su questi tipi di obiettivi. Visto che prima ha citato Champions League e Serie A, le domande le devo fare sullo stadio. Visto che almeno calcisticamente non ci potremmo andare, ci stiamo come città. Nota dolente, però insomma almeno sullo stadio volevo capire se lei è ottimista sulla realizzazione del progetto, insomma perché lo è la Fiorentina, volevo capire se anche la parte sua. Ma io ho ascoltato con grande interesse le parole da ultimo espresse da Gino Salica e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sappiamo bene che lo stadio è un'opera molto complessa, qui stiamo parlando di realizzare uno stadio nuovo, quindi non di sostituire uno vecchio con quello nuovo come magari è stato fatto a Torino con lo Juventus Stadium e che è necessario rispettare tutte le prescrizioni di tutela dell'ambiente e del territorio. Ma stiamo continuando a fare passi in avanti. Il Comune per quanto riguarda le norme urbanistiche che consentono lo spostamento della merca fino a Castello e la Fiorentina per quanto riguarda la realizzazione del progetto definitivo. Dobbiamo andare in parallelo, non possiamo consentire che l'uno ritardi a scapito dell'altro. C'è un termine fissato per la consegna del progetto? Quest'anno è l'anno decisivo. Noi porteremo in giunta nelle prossime settimane la delibera, la doppia delibera, quella che riguarda la variante di Castello, che va nel senso di una riduzione dei volumi a costruire, quindi maggiore sostenibilità e consentirà lo spostamento della Mercafir e la delibera che darà la valutazione sullo stato di avanzamento della progettazione da parte di Fiorentina. Con questa doppia delibera noi tracceremo una strada ormai definita dalla quale non potremo sviare. Senta, abbiamo parlato di infrastrutture e in relazione anche all'operato del governo. Insomma, un paio di domande sulla questione nazionale, perché se uno aprisse un giornale oggi e magari non l'avesse aperto per 70 giorni, si scoprirebbe in un mondo che è praticamente rimasto uguale come era 70 giorni fa. Tutti litigano, tutti sembrano in campagna elettorale ancora oggi. La domanda però, insomma, dal rappresentante del Partito Democratico e del centro-sinistra, per un elettore magari di sinistra che è deluso, ha votato il Movimento 5 Stelle, insomma, non deve essere semplice oggi aver contribuito a formare forse uno dei governi più a destra della storia d'Italia. E tanto le devo dire che è francamente imbarazzante, per non usare espressioni più dure, che dopo due mesi e mezzo con il Paese in queste condizioni, cioè un Paese che ha bisogno di una spinta forte per rafforzare la ripresa economica, chi ha vinto, nonostante abbia i voti, è ancora lì a discutere quale poltrona prende Tizio e quale poltrona prende Caio. Io credo che i cittadini tra un po' perderanno la pazienza e chi ha votato, coloro che oggi stanno cercando di fare il governo, ma alla fine, come il gioco dell'oca, ritornano sempre a zero, dovranno ricredersi e si ricrederanno. Perché se il buongiorno si vede dal mattino, come dice quel proverbio, beh allora c'è soltanto da allarmarsi. Perché se Lega 5 Stelle, che chiedono rinvii continui, litigano sui posti, litigano sui contenuti, non arrivano a definire un governo, come si comporteranno un domani che dovessero davvero governare il Paese di fronte alle emergenze dove non si può perdere, non dico due mesi e mezzo, ma neanche una giornata, di fronte alle sfide del terrorismo, di fronte alle sfide economiche, insomma, basta con questa pantomima. Si prendono le loro responsabilità, diano un governo al Paese e sono capaci, altrimenti con grande franchezza gettino la spugna e riconoscano di essere degli incapaci, impreparati, assolutamente irresponsabili rispetto a tutto quello che hanno promesso ai cittadini. Se in quel caso si dovesse tornare a elezioni, visto che anche il governo di transizione del Presidente sembra un'ipotesi più lontana, oggi sarebbe Gentiloni il candidato del Partito Democratico e perché? Che profilo ha rispetto a quello che era Renzi? Qualcuno ha detto che Renzi era troppo un candidato per il maggioritario, Gentiloni è più per il proporzionale in questo sistema elettorale che funziona meglio. Dunque, più che fare un confronto con Renzi, credo sia utile valutare quello che Gentiloni ha fatto in questo anno e mezzo. Gentiloni ha consolidato la ripresa, ha contribuito a creare un clima di maggiore tranquillità nel Paese e ha mantenuto anche quell'input che era stato dato dal governo precedente nelle relazioni internazionali, nella promozione dell'Italia dal punto di vista economico. È una persona capace di unire e credo che sia il candidato giusto per il PD nel caso in cui dovessimo andare a elezioni anticipate. Senta, ma oggi in caso del Partito Democratico qual è la priorità? Da una parte ricompattare proprio la prima cosa, ricompattare l'elettorato a sinistra o magari intercettare quei moderati che sono disorientati dal governo che potrebbe o forse non nascerà? Io da sindaco ovviamente non partecipo attivamente alla vita nazionale del PD, però le dico tre cose. Primo, bisogna analizzare con grande chiarezza e nettezza le ragioni della sconfitta. Non è stato fatto finora? Io credo soltanto in parte, ci vuole tempo. Ad esempio al sud abbiamo perso perché non abbiamo una classe dirigente all'altezza. Ad esempio abbiamo pensato di poter risolvere i problemi politici con l'azione di governo che è stata molto positiva, io do un giudizio positivo all'azione di governo, ma non basta solo governare per rafforzarsi sui territori, per irrobustire la rete del partito. Secondo obiettivo, dobbiamo puntare a recuperare i voti persi, capire perché chi votava PD ha finito per votare 5 Stelle, ha finito per votare Lega. In questo senso non dobbiamo affatto denigrare o demonizzare gli elettori degli altri partiti. E terzo obiettivo, dobbiamo prendere in mano questioni con più chiarezza che forse in passato non abbiamo sufficientemente messo al centro della nostra azione. Da sindaco, vi dico ad esempio il tema della sicurezza, della legalità. Parlare di sicurezza non vuol dire scimmiottare la Lega, non vuol dire fare a gara con la destra. La sicurezza è un tema diciamo di sinistra. Quando io parlo con le persone anziane, quando io parlo con i giovani, le donne soprattutto, che hanno bisogno di sentirsi più protetti, parlo con gli anelli più deboli della mia comunità. Ecco, dobbiamo fare una serie di cose a testa alta e credo che stando all'opposizione di un governo come quello che sembra che stia per partire, Lega 5 Stelle con Forza Italia che sta un piede fuori e un piede dentro, noi avremo il tempo di riorganizzarci, di tirare fuori una proposta nuova, anche profondamente nuova, e tornare a affascinare, coinvolgere larghe parti delle nostre città. Senta, che poi questa crisi, se vogliamo, insomma, del debacle del centro-sinistra, almeno nelle ultime elezioni, è qualcosa che poi si riscopre anche a livello internazionale, in modo particolare a livello europeo, è un clima dove le sinistre perdono. Qualcuno ha detto che il problema è che le destre riescono a fornire un'identità o un'immagine più chiara agli elettori, mentre la sinistra ha un po' perso quell'identità che aveva magari di stare nell'emergenza sociale o negli strati più deboli. Oggi il Partito Democratico è un po' visto come il partito dell'elite, anche da qui bisogna ripartire. Si deve ripartire anche da qui. Anzitutto non basta solo parlare della categoria destra e sinistra. Io incontro tanti cittadini che non decidono sulla base di un'appartenenza alla destra o alla sinistra. Questo non vuol dire essere qualunquisti, attenzione, vuol dire che non possiamo affrontare i problemi di oggi solo con le categorie del passato. Vuol dire che la parola sinistra, se noi non la riempiamo di nuovi valori, di nuovi contenuti, rischia di essere un contenitore vuoto. Vuol dire che si deve tracciare un confine chiaro tra chi è per l'Europa e contro l'Europa. Ma se vogliamo essere per l'Europa dobbiamo essere i primi a pretendere di cambiarla, che l'Europa cambi. L'Europa deve essere più vicina ai cittadini. L'Europa che mi piace è l'Europa della commissaria europea, che due giorni fa è venuta a Firenze, ha visto le tranvie, che fa capire ai cittadini che i soldi di Bruxelles servono per migliorare la qualità della nostra città. L'Europa che invece non mi piace, che dobbiamo cambiare, è l'Europa della cosiddetta austerità, l'Europa che ci dice che dobbiamo soltanto tagliare le spese, che ci dice che non possiamo investire per lo sviluppo, che ci dice che comanda solo la burocrazia. Quell'Europa va cambiata, però è una cosa ben diversa di chi, come ad esempio da destra o dalla Lega, attacca continuamente l'Europa come principio. Che facciamo? Facciamo la fine della Brexit e l'Inghilterra? Gli inglesi, dopo il referendum, non sanno più che pesce prendere, sono disperati perché stanno vedendo che fuori dall'Europa non c'è futuro. Noi vogliamo rimanere dentro l'Europa, ma dobbiamo dirlo con grande chiarezza e con la pretesa di cambiarla, partendo anche dai territori. Lei ha parlato di identità, io credo che anche il centro-sinistra possa recuperare una nuova identità. Sa da dove? Dai territori. I cittadini riconoscono i sindaci, i cittadini si riconoscono nei territori, nell'identità locale. Ecco, dobbiamo essere europei, riformatori, allo stesso tempo però capaci di interpretare l'identità locale che gli italiani riconoscono nelle diversità delle nostre regioni. Perfetto, allora ci fermiamo per 5 minuti, lasciamo spazio al telegiornale, torneremo tra pochissimo, sono tantissimi temi in scaletta di cui discutere con il sindaco di Firenze Nardella, però come detto lasciamo spazio alla cronaca, poi tra 5 minuti torniamo in studio. Restate con noi. Bentornati in studio, allora siamo con il sindaco di Firenze Dario Nardella, riprendiamo il nostro racconto parlando di un altro tema, perché c'era anche nella scheda introduttiva che abbiamo visto una delle altre sfide, da una parte le infrastrutture e dall'altra però anche i volumi zero, i contenitori dismessi. Anche quella è una battaglia piuttosto importante e anche lì è una battaglia che cambia il volto della città nel vero senso della parola. Non c'è dubbio, noi siamo arrivati 4 anni fa che Firenze era una gruviera. Oggi possiamo dire che due terzi di quegli immobili luoghi dismessi hanno una nuova vita, un progetto, in certi casi stanno per essere diciamo proprio rilanciati. Penso allo student hotel, il vecchio palazzo del sonno, il famoso buco bel fiore, questo lago che si è creato proprio in pieno centro, è stato acquisito di recente e sarà trasformato. La manifattura tabacchi, lo si ricordava nel servizio, significa anche qualcosa come 1200 posti di lavoro nuovi con la riqualificazione di quello che sarà un nuovo quartiere. Ma il vecchio tribunale San Firenze che ora ospita la fondazione Zeffirelli o la vecchia caserma Cavalli che è sull'Arno, riva sinistra, grazie all'investimento della fondazione Cassa di Risparmio diventerà un incubatore per nuove imprese, darà opportunità a giovani ricercatori che vogliono intraprendere un'attività. Pensiamo alla famosa Querce, la vecchia scuola nel quartiere 2, era occupata, l'abbiamo sgomberata e diventerà un albergo importante che darà da lavorare a più di 100 persone. Insomma, se mettiamo in fila tutti questi obiettivi, credo che possiamo dire che Firenze stia vivendo un nuovo rinascimento anche nella riqualificazione degli immobili. E vorrei dire l'ultima cosa importante, è una riqualificazione che non porta a consumare il nuovo suolo, perché noi abbiamo approvato il regolamento volume zero, che significa? Significa riqualificare, ricostruire la città senza rinunciare al verde e alla sostenibilità, anzi aumentando gli spazi verdi, i parchi, i giardini di cui la città ha un grandissimo bisogno. Senta, c'è una domanda, non ce l'ho in scaletta, ma mi è venuta in mente perché mi è capitato che parlano spesso, le piazze di Firenze sono luoghi identitari, sono luoghi dove la gente si ritrova che hanno anche una funzione sociale molto importante. Come stanno a Firenze? Perché qui forse è stato un pochino più difficile, piazza del Carmine, insomma non si è trovata una funzione subito, quindi dal parcheggio poi è diventata una piazza aperta, ma ancora è in fase di ristrutturazione, piazza dei Ciompici è stata una larga polemica, insomma a questo punto di vista come sta andando? Guardi, da sindaco io ho parato che è impossibile mettere tutti d'accordo, anzi quando si fa qualcosa per mettere tutti d'accordo si finisce per non fare qualcosa di buono, quindi riqualificare le piazze certamente comporta anche qualche malcontento, però sono convinto che i cittadini apprezzino il fatto che c'è un sindaco che si rimbocca le maniche e trasforma la città alla riqualifica. Piazza del Carmine sarà inaugurata a metà giugno, era un parcheggio a cielo aperto e credo che la pedonalizzazione di gran parte della piazza sia certamente un contributo alla qualità della vita. Piazza dei Ciompi era piena di Amianto, il mercatino delle Pulci per molti aspetti davvero in condizioni disperate, il mercato è stato salvato e sarà ricostruito lì vicino a Piazza Negoni e Piazza dei Ciompi anche questa entro giugno sarà completata con un grande giardino a disposizione dei cittadini, ma le posso dire Piazza delle Cure, erano vent'anni che aspettavamo di riqualificare Piazza delle Cure, i lavori sono cominciati, lì finiremo entro marzo dell'anno prossimo con un parcheggio nuovo, con un mercato completamente riqualificato. Le posso dire che i lavori a Piazza dell'Isolotto cominceranno entro la metà dell'anno prossimo e molte altre piazze, Piazza d'Azeglio, Piazza della Repubblica, non solo in centro, possiamo andare anche in periferia e pensare al lavoro che si sta facendo sul quartiere 3, piazzeria dalla costa completamente ristrutturata. Insomma c'è una città che si sta facendo bella, con nuove funzioni, che sono sempre orientate a migliorare la qualità della vita delle famiglie. Certo c'è il grande sacrificio di sopportare i cantieri, però è come se i fiorentini fossero una grande famiglia che decide di fare il lavoro in casa propria, per avere una casa più grande, più accogliente, più funzionale, questo è il nostro obiettivo e in questi mesi stiamo chiudendo molti dei cantieri che abbiamo aperti. Infine, la vita della piazza dipende anche dalle attività culturali. Noi abbiamo lanciato un'estate fiorentina molto protesa verso le periferie. Pensiamo alle piagge, pensiamo a Mantignano-Ugnano, pensiamo a Piazza Bartali dall'altro lato della città, pensiamo al giardino di Campo di Marte nel quartiere 2. La manufattura Sabacchia. La cultura può fare moltissimo. Quando si parla di sicurezza e vivibilità, dobbiamo ricordare che dove c'è cultura c'è più tranquillità, c'è più sicurezza. E infine l'illuminazione. Noi abbiamo piazze illuminate grazie al progetto LED che molti fiorentini cominciano a vedere perché è un progetto ambizioso che è in corso di realizzazione 30.000 punti luce LED, che significa risparmiare del 30% la bolletta perché la luce LED riduce i consumi energetici e avere una resa maggiore, quindi piazze illuminate meglio. Quindi credo che mai come in questi tre anni, quattro anni, si sia messo in campo un piano di riqualificazione delle piazze pubbliche della città con questa intensità. Senta, visto che ne ha parlato l'estate fiorentina, noi abbiamo anche raccolto i numeri in una scheda, intanto lo mandate in onda così per dare un colpo d'occhio su quelli che sono i numeri dell'estate fiorentina, è un'estate che cresce, a parte sono sei mesi di attività, magari l'estate fosse lunga sei mesi, però a parte quello un milione di euro di investimenti sono soldi che si vogliono spendere per fare questi eventi, perché? Qual è la motivazione? In parte forse l'ha già risposto la sicurezza, il presidio della città, no? Beh sì, io credo che la cultura porti più umanità, aiuti le relazioni umane e soprattutto rafforza il senso di comunità, soprattutto nei luoghi che spesso vengono abbandonati, dimenticati, le cosiddette periferie, che rischiano di diventare quartieri dormitorio. Per evitare questo dobbiamo portare la cultura, la cultura che dà spazio ai giovani artisti, che non dimentichiamo porta anche opportunità di lavoro. La cultura è creatività, nasce anche dalla necessità di offrire del tempo libero di qualità ai cittadini, che soprattutto ad estate hanno anche più tempo a disposizione. Io sono molto contento del risultato dell'estate di Fiorentina dell'anno scorso, ma sono certo che quest'estate andrà ancora meglio. Abbiamo addirittura dato spazio a nuove associazioni, siamo arrivati a 140 progetti, dimostrando quindi che Firenze ha una vitalità davvero senza uguali. In questo modo noi terremo anche più vicino il centro con i quartieri periferici, perché gli eventi culturali si svilupperanno lungo tutto il percorso cittadino che va dal centro all'esterno. Con le tramvie anche, speriamo, possono durare anche di correre durante la notte, perché anche quello è importante. Pensiamo anche all'Arno, per esempio. Molti dei progetti di questa estate fiorentina si realizzeranno lungo l'Arno. Spesso il fiume viene un po' trascurato, o ce ne ricordiamo purtroppo solo quando ricordiamo l'alluvione, ahimè. Vivere il fiume è un modo nuovo per vivere la città e ho trovato che tante famiglie hanno riscoperto, grazie anche alle rive che sono state pulite, hanno riscoperto la gioia, la bellezza del fiume. Senta, un paio di domande le devo fare sulla macro questione del turismo. Anche qui abbiamo una scheda che raccoglie dei numeri, tra l'altro raccoglie dei numeri paragonati tra il 2014 e il 2017, l'anno di insediamento del sindaco Nardella con l'anno attuale. Insomma, la crescita la vedete anche voi nella colonna di destra, sono i numeri attuali. Però c'è quel capitolo in fondo sul web che sono 8887 annunci riguardano Firenze su Airbnb e Booking, 3842 annunci. Insomma, per dire che lì si sviluppa una larga parte, una larga fetta del turismo in città che però è quel turismo che fino ad un certo punto è opportunità, da un certo punto diventa rischio, logoramento, deperimento della città. Un po' l'effetto Venezia, lo chiama qualcuno. Come si fa a contrastare questo fenomeno? Allora, io credo che dobbiamo stare con i piedi per terra. Anzitutto considerare il turismo una grande risorsa, che il turismo porta ricchezza, anche posti di lavoro. Abbiamo avuto negli ultimi quattro anni più di 3.000 nuovi posti di lavoro, soprattutto giovani, e questo è un aspetto che le persone conoscono bene. Quindi il turismo non è una iattura, non è un problema. Tuttavia dobbiamo, dall'altro lato, evitare che la città perda l'anima, perda l'identità e sia svenduta ad un turismo di massa, ad un turismo consumistico. Come fare? Ogni città ha la sua ricetta. Io credo che Firenze sia molto diversa da Venezia. Noi abbiamo un centro storico ancora vivo, ancora vissuto. Dai dati che abbiamo a disposizione possiamo dire anzi che c'è stato anche un lieve aumento della residenza. Tuttavia il turismo aumenta e dà quindi questa impressione di soffocamento. Occorre quindi andare avanti sulla nostra strada di preservare l'identità delle botteghe storiche e dei negozi storici. Noi abbiamo bloccato i fast food, gli internet point, facendo una battaglia anche pionieristica, direi. Abbiamo anche messo uno stop all'apertura di nuovi ristoranti, che spesso andava a discapito dei cosiddetti negozi di vicinato, che in centro sono necessari. Dall'altro lato dobbiamo insistere per spalmare il turismo su un'area territoriale più larga. Dobbiamo puntare ad aumentare i pernottamenti, perché un turismo diciamo di media permanenza, cioè turisti che dormono, che vivono la città, è un turismo di maggiore qualità. Il nostro avversario è il turismo a mordi e fuggi. Sono questi autobus che si versano in città, scaricano migliaia di turisti che stanno per 3-4 ore, non vanno in un museo, non mangiano in un ristorante, non dormono in un albergo e poi vanno via. Quello è un turismo che va combattuto, è un turismo che fa male alla città. Quindi dobbiamo mettere insieme una serie di ingredienti per avere un mix che a mio avviso può funzionare. Fermo restando che la lotta agli investimenti immobiliari, diciamo così, alle rendite immobiliari, perché se uno vende una casa in centro e viene acquistata automaticamente da qualcuno e poi ci fa una locazione servibile, questo spopola il centro. Allora, c'è questo rischio. Abbiamo bisogno di una norma statale che ci consenta, ad esempio, di mettere un tetto agli affittacamere nel centro, perché oggi il sindaco di una qualunque città italiana, intendo dire città d'arte, non ha strumenti per dire basta signori, gli affittacamere non si possono più fare. Noi abbiamo fatto una cosa, abbiamo messo la tassa immobiliare, la LIMU, seconda casa, al massimo livello possibile, proprio per scoraggiare le seconde case in centro. Ma non basta, perché è poco rispetto al guadagno che si avrebbe affittando la casa in centro. Secondo me la seconda mossa da fare, ed è quella su cui lavoreremo nei prossimi mesi, è quella di mettere, di fare un'iniezione di potenti incentivi fiscali a chi risiede nel centro. Penso alle giovani coppie, ad esempio alle murate, che è un'area abbastanza centrale, l'ex carcere, noi apriremo, diciamo, realizzeremo nell'arco, stiamo finendo, le prossime settimane finiremo 17 nuovi alloggi popolari che saranno destinati a giovani coppie, che servono proprio a mantenere il livello di residenzialità nel centro. Senta, glielo devo fare perché ne parlano tutti, tutti se lo chiedono, questo avvicendamento in giunta, no? È il momento di Fratini o è rimandato? Guardi, io ho già detto che quando avrò deciso comunicherò quale sarà la sostituzione. La cosa importante è che la mia squadra, la mia giunta abbia, come dire, la piena fiducia e continua a lavorare come sta facendo. Io credo molto nella squadra, credo che il sindaco da solo non possa far nulla. C'è un bellissimo proverbio africano che dice da solo si va più veloci ma insieme si va più lontano e quindi non ho alcuna intenzione di punire nessuno dei miei assessori. Per cui l'avvicendamento sarà un avvicendamento teso a rafforzare la squadra che è ciò in cui credo in assoluto di più. Senta, rapidissimo, tre cose in agenda da qui a fine mandato, quelle su cui scommette, diciamo, non quelle che stanno già nell'agenda di programma ma qualcosa su cui le piacerebbe intervenire. Appunto, in agenda di programma abbiamo già tante cose da realizzare, se riusciamo a farle tutte credo che abbiamo fatto un mezzo miracolo, penso alle tramvie, penso anche all'avvio dei lavori della nuova pista dell'aeroporto per citare un obiettivo importante di cui abbiamo parlato. Però per l'anno prossimo se riuscirò a trovare le risorse, se riusciremo a trovare le risorse, grazie anche alla tassa di soggiorno dei turisti, noi dovremo fare qualcosa di veramente importante sul tema della casa. Io incontro tante persone, tanti cittadini che mi dicono Sindaco, noi non siamo così poveri da avere diritto ad una casa popolare, però non siamo neanche così ricchi da arrivare alla fine del mese. Ci sono tante famiglie che non sono alla fine, come dire, non sono l'ultimo anello della catena ma sono il penultimo e hanno difficoltà pagare gli studi ai figli, poter pagare un affitto. Ecco, se avremo le risorse, io credo noi dovremo mettere in campo il più ambizioso piano di sostegno all'abitazione, alla residenza delle famiglie fiorentine che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che non sono così povere ad avere diritto a tutte, come dire, quelle misure di sostegno di welfare, ma che tuttavia hanno bisogno di un sostegno concreto. Grazie mille a Dario Nardella per essere stato con noi, grazie per aver partecipato, grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti. Grazie.